barba gianni questa sarà la parola d'ordine della live di stasera la live di stasera sarà chiamata live barba gianni d'accordo questa sera non editero ora ora ci cose allora gabri gnocco cari che abri tre sarai antonio il nostro bobbene spalla bobb vittorina operazione barba gianni ciao a tutti stasera non editero basta 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 mi ha detto pang che mi ha attaccato le canzoni mi sveglia la mattina cantò le canzoni il dottor pang test audio affettato con successo ragazzi saluto a tutti che si stanno pelleando perché non si è il primo attenzione ora si do antonio ragazzi c'è cosa la prova gamer pro pro gamer i ali stambi e nola che guapo entrare in chat e verrà sì mucine chicane che non si spera io italiano io sì io italiano nato nato crescido in morire morire quindi poco a poco ci cosa un secondo che vuoi a compartire e la rezza si iuri si hai visto il nome e se che non me lo scurreggia ok il diretto sembra andare abbastanza bene ora condividiamolo chico scompartir con todo il mondo tambien con l'iglesia col vaticano il nostro live nostra diretta per favore por favore dame un euro por favore un euro ciao汉 goolo i AK30 sì ma quale credo che sono per favore mi pare un secondo general diamond hello hello ciao ciao il wifi al mare va gecko conferma il nostro gecchino ce lo conferma no cari e stiamo e stiamo in revisione mode revisione bot perché non chiediamo che mucha gente sia odiata da da los haters entonse ora ha un pochino di no mode no float perché? 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 uno sentiamo a pedo sì sì nella partita è entrata la sedo così direttamente today to crash bandicoat poi vedremo un go che ora tengo che come madre santa perché noi siamo arrivati in casa ora stiamo in più e abbiamo più hambre che sed è l'onora? 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 ciao ele in the same mode you call a game come dici tu? be happy? fa come ti fanno e non è peccato fa il dirio la poche sai che deve capire questo detto italiano oh he makes me translate something difficult fai le cose che ti fanno e non sarà mai paccato peccato he says it says something like do what is being done to you and it won't be oh my god peccato peccato oh my god I don't know this I don't remember this this word in English oh mio dio cioccolatis it won't be a wrong thing cioccolatis cioccolatis dove? wow I think yes cioccolatis cioccolatis is it you? yes I think yes I remember that I've watched some of your streams some day we are a cringe game family here streaming only for you ora non sono Inca Dzeko, sono Octo Dzeko stiamo bene Chocolatis, e tu? come stai? ragazzi, ricordate di cliccare il like, per favore e tu? e tu? e tu? stiamo veramente bene, grazie, grazie molto sì, è più e più sì, ho cambiato il nome è sempre Luis sì, riconosco il profilo ok, famiglia deve essere devo tirare un Aire un Aire avanti ciao ciao leggende no, perché non ho aspettato? barrazza mi tiene nel formato delle cose hey matthew, ciao, come sei? romani stai in sottofondo rrrrrrrrrr rrrrrrrrrr stai sopra dell'aere e stai sopra dell'aere, è claro che sì con pedo teneremo pedo a arrivare in l'aere questa sera non è di... madonna, basta con la canzone di... che maledette ascolta, mi devi fare un favore ogni volta che a prima mattina arriva la notifica su YouTube non mi devi far guardare niente di quell'uomo perché veramente ma... lui non sa che una mattina mi sento gli ha detto mettiamo la canzone vaffanculo amore ho bisogno di buon umore ma Frank? oh mio Dio Frank sta morendo aiutate Frank che succede? Frank? oh mio Dio hanno acceso Kenny brutti i bastardi oh joke ladis sure e anche se non ti senti colore puoi venire qui ok allora ma tu che fai qua sopra? allora spiegamelo ti ho attaccato allora allora non lo so non lo so ok chicos e Yuri anche qua ciao Yuri e il problema è che i ragazzi devono capire che ho un secondo bloccato ok OBS va di nuovo ragazzi avevo OBS bloccato ci costa mia è l'OBS blocchiato infatti adesso partirà che non è che ho scritto oh sì del 930 madre mia cosa? a ver chicos come sembra un bar Miralis credo che è entrato così che no era bloccato è il ragazzo di Crazy Justice che si è iscritto oh ok benvenuto Giaccio Clarice dice turn on the notifications it's better è bloccato è bloccato mi sa oh mio dio cosa sta succedendo questo è tutto di prima no può essere che si è bloccato l'OBS di nuovo o no grande saletta si è bloccato si è bloccato si si hai il cow online c'è una certo ok va bene ok non so chi stava preguntando di chi era la mano del video questa mattina misterio misterio è di cocco è di cocco abbiamo fatto un hand reveal di cocco ieri ti dice che adesso può giocare Splatoon eh ieri come ieri cosa vuol dire Victini hey welcome chi è come back Victini mi sono ad averlo visto una vez cactini ma no così diceva un cantante italiano grisava cactini bello Victini welcome è il doc la grande mano di doc è il doc che non ha una mano ha una vanga una pala una pala una una pala bella yuri ma yuri quindi oh mio dio oh mio dio yuri oh mio dio yurino non ci credo asetate 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 questo è vero per yuri non ci credo dimmi che è vero no ci ha la latte ok siamo felici per Ciclari ma aspettavamo di yuri welcome back to Gladys cactini Shining hola soy Dora Dora la che io pienso ah non sei Dori hola Dora bienvenida benvenida al canale qui stiamo passando il ratto grande adoro questa donna questa mini donna ragazzi ricordavamo di darle al like porfa che aiuta un monton e assi os asegurais che le notificazioni sono puntuali almeno o salen o si supone che tiene che passare quindi quindi adesso sono totalmente emozionata si yuri veramente riesce a giocare con noi yuri yuri non ha comprato la nintendo mannaccia mannaccia meh claro chicos che è mia la mano non può essere di mia mujer la mia mujer tiene la mano perfetta io tengo la mano come un contadino come si dice un granjero ah vale a ver Shining se chiama Tony ah vale Tony mejor che Dora nada contro Dora eh però Dora è un nome italiano si proprio che è internazionale si pues benvenido Tony entonces come se lo ha detto eh no Chocolati eh 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 abbiamo stream ma credo tre volte abbiamo persone spavano in Fortnite per sicuro ho visto che c'è Fortnite nuovo nella mia lista però vabbè non è uguale e non preoccupate perché sai che non ci giudiamo quindi hai la mano del monstruo si tengo una mano chicos che è maschè 20 20 cm di di largo e di enorme oh mio Dio tu hai rivelato la mano oh mio Dio oh mio Dio Shining benvenuto 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 Tony grazie per la unità della community benvenuti benvenuto 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 oh so Nanza Doc potete venire al mio canale va bene ma o meno sì ma o meno sì ma o meno mananza piernas perna tengo un 47.5 cm di piedi chicos per fare il foot di Reville per fare media ora solo per fare tutto da due camerà no 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 gabrie eso no pocas cosas te puedo prometer pero eso si no gabrie mira no quiero ser un personaggio público la persona que pone la cara tienen que ser personaggio público y a mí no me gusta la idea ni la idea me gusta entiendes esto es yo soy solo un gamer chicos y eso consciente de que los canales donde se ve la cara suelen ser mucho más populares si no queremos ser popular nosotros queremos hacer una cosa de chat bien la comunidad ya bien somos la voz chicos ya está o catalán olé toni no habla un poco 47 y medio gabrie yo podía dormir de pie sin problema un poco un catalán toni podemos hablar en catalán si voles todo y que hay una gente aquí de cataluña pero nos entenderán mío en castellano eso sí una alemana que habla catalán y de esta manera más por qué tenemos que mostrar en la cara si tú hablas catalán así bien entiende no tiene sentido mostrar la cara cuando viene a alguien de cataluña porque así menos tiene sentido los cinco idiomas hay muchos de esos robots como lo llama pingu eran comunes no como objeto de coleccionismo son comunes no los la hucha del robot de tommy no si no si no mucho porque se han roto un montón ya vale funcionante vale funcionante no hay mucha muchachene hay pero no hay mucha y creo que valen en torno a los 30 euros mínimo una hucha ahora sí no sé yo me enamoré cuando cuando se come la moneda y de repente te mira los ojos y es como odio pero por favor que monura chica mañana me enseño un otro vídeo cariñoso cariño 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 mañana tendréis un otro vídeo bueno bien vídeo gabri tiene 43 y medio de pie grande gabri literalmente puede ser que mi hijo eh yo te mira que tengo un montón de hijos aquí y ahí loco storm hi i think i will play but only one match this dream because i'm press for time don't worry storm storm don't worry at all as much as you can and don't worry if you cannot play one it's don't don't feel pressured even though we love to see you play bad good bad 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 for furby yo amo la furby a wild furby appeared do we have to be afraid welcome furby did i say hi to lucky lucky a ver qué a ver a ver a ver a car furby a ver light me encanta la frase inshining Sì, sì, Shining. Vambi a essere privato in un pequeño rastito. Ha cambiato. Vale, ora vamos a. Vale. Abbiamo avuto che siamo anche qui. Le la frase del Ein perché è successa. De pie. Sì, io parlo catalano, castellano e ho 38 di pie. la descrizione 5 idiomas e 47 metodi di piedi vai, vai basta, basta di piedi che comincia a oler tutto qui oh subito, subito ma perché si è caricato sta scaricando chi è? TONY benvenuto benvenuto TONY fratello TONY benvenuto nella nostra famiglia ma che fai di sembra? tu chiedi il primo di Gabriele uno dei suoi primos io tengo uno 34 primos, credo benvenuto TONY la famiglia ti accetta a braccia aperte c'è un quesarete che fa minchia allora allora, sono molto stressata ero in uno dei miei amici che stia facendo un giveaway quindi ho prenduto l'aria e una persona una persona due volte e la stessa persona in un altro account una... nooo nooo di snoggle hola Proazio che tal? che talve estas? Bienvenido otra vez Respira No, escoltas e escucha Sark, Storm, Mako y Chocolatius Against Doc, Sarah, Frank Legends Chocolat, Chocolat Doc, Doc, Doc Doctorius, Doctorius Frank es aquí ¿Lo sentís respirar? questo va a essere la cosa importante del pool però noi oh mio dio si sta facendo un figlio oi chicos per i che avessi arrivato e tal, non sorprendáis che a volte è un po' caotico por qui perché cambiiamo molto di idioma quindi speriamo che vi piace che lo sentite come utile e niente, è tutto amici chi ne diceva questo? perrito compulsivo, perrito compulsivo chi è questo sniper? no che non lo sappia cari però escúchami non per essere feo di cose molto private è meglio non parlare qui nel chat però mi mi dispiace, cosa si dice? ora l'ho leito che lo siente di te pingu minchia è quello che ho fatto con l'abo come si chiamava i dosi? igodi igodi è gemini of doom che qualcuno scriva che cos'è igodi per favore è su un clan che emoo emoo questo è storm for how is it's I recognize you storm you only have to surely I recognize you it's not because of the head believe me ma si dice una palabrota lol chi è? no non lo dice una palabrota poi io sono italiano eh chicos per favore ricordate sempre che lo sono italiano vive in palabrota eh che no sono le idee che idea è questo? italiano pizza sole mandolino e vaffanculo è una guitarra chiaro il mandolino è dove è? oh la guitarra è spagnola il mandolino no perché? me lo explicas? Sark hai un traje resistente alla tinta gemini gemini mi 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 Mamma mia, no? Non lo sape di dire? Mamma mia! È solo una casualità dove naceis, eh, chicos? Pensarlo così. Io, eh, è lo che mi ha insegnato nella vita. Donde naces è una casualità. Lo che tu lo haces con tu vita è un'altra. Beh, hai fatto un buon match, ragazzi. Sark, Mako, Chocladis e Storm, un buon match. Poi, ragazzi, ragazzi, per favore, da un like. Ragazzi, por favor, piñanci il botone di like perché è veramente, veramente importante per noi. Beh, io, da un like, sì. C'è un bel. Io non vedo come perros. No, per me sono un perrito convulsivo. Ai, mira, io... Maim, posso aspettare? Ok Storm, un grande augur per te Si, buona giornata A ver, BlackRiddle è online Oh mio Dio, fermati Tu hai molti gente di hype per Smash Bros, è vero ti piace Toni? poi va bene mi piace Toni H solo per questo ti vado a mirare vai Toni venga venga a darlo tutto a ver che è un blaster Toni è vergonzoso ma è nuovo Toni è un pezzo dorato è un pezzo dorato Toni ah si? io ho parlato in italiano si no? si no? credo che si wow ring ring un disco nesso passi a vedere un pezzo di live ah no sono tutti fini di me ai dios chiamela dalla testa toglimela dalla testa per favore ma lui ne fa apposta per non fartela levare dalla testa sì magari la canti fuori dalla testa anche la nostra oi nooo creo che Jess se la apro in Splatoon in Splatoon? sì e in Smash sicuro incontra la più difficoltà ad acqua per a Smash sì non lo vedo io è molto probabile e let's see Choclaris as well il nostro amico il nostro amico viene evitato vuoi cioccolato bello? come ti chiami? cioccolato nel frattempo mi gusto la mia acqua con l'alloro acqua con l'alloro che buona l'alloro l'aurel acqua l'aurel e i limoni un bicchiere per me mago ma immaginati un limone siciliano che io penso che non c'è posto al mondo che abbiano i limoni non l'ho provato mai con l'aurel l'aurel l'alloro 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 non a me l'alloro no? dopo questa spero di diventare sordo il prima possibile ma io memorizzo così le cose domani mi chiedo com'era l'aurel anche che dici che sta facendo qualcosa per noi sta facendo le patatine cosa sta facendo? io inizio io d'Italia eh io a venire da Spagna io no io venire di Spagna di di io io si è buono guarda io io quando quando ero in Italia semi di finocchio selvatico eh alloro limone eh 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 great alloro va in difesa e zucchero anche se lo zucchero non è buono però mi sparavo delle tisane e tisane e tisane ma caldo o freddo? come vuoi caldo è meglio un po' caldo è meglio ah back back no si guau choco guau guau ciò buono 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 Una artigianza, una artigianza più calda di una brasiliana. E poi Alice è tornato. Adesso hai giocato, Alice? E siamo in privata ora. Questa è inizia, sì. Come sempre, iniziamo... Cada due. Cada due. Cagados. Iniziamo a cagados. Sin miedo. Ok, in the last thirty sevens, let's see... Gnocco, Kau. Bella Gnocco. Che tiene il bazzucco, il pezzo dorato, in sua posizione. Però, due contro ella. No, no, no. No, no, no. E io sai cosa faccio? Mi faccio un po' di pubblicità, mi faccio. Wow. Mi faccio un po' di pubblicità. Bianeccio. Buon job. Buon game, ragazzi. Gigi, gigi. No, salchino, ora si reinizia. Ahora, iniziamo. Valla. Vai a te. Vai a te la. Valla. Nueva room. però si è quasi un port de Splatoon 1 che non lo diga così cosa? non si vuoi un port de Splatoon 1 qui sta, qui lo hai solo la special del calamari era demasiado potente un po' più pros солomanti i vio i do'érii vio i dic i preparции mexica mexico viva mexico noi siamo comido nada ma non hai preso il panno alla fine? no è vero ti ho detto di no che coglione non fa niente se impari che merdina che sei veramente con te ce l'ho Sara mi ricordava me bro numero di lotto di Splatoon 5588 dei raters amenefodo hai posto una contrasegna o algo? qualcuno sta intentando entrare e non può o algo asi o algo del estilo carl ciao carl che tal stas? ma cochi cochi blé mi ricordava? tu ricordava? mi ricordava? mi ricordava? mi ricordava? non parla di cargare è meglio che la sera una nuova room solo sarete riuscita io non credo non la credo il mio moto io ho del later me ne fotto mi ricordava? mi ricordava? mi ricordava? mi ricordava? mi ricordava? mi ricordava il pesce questo è un po' si chiara e poi continua il canolo via mare il canolo va sulla Zatteram oh mio dio mi spero un momentito no, commento a ver, vale yeah, they are quite expensive that's true io arranco vamos a hacer una torre Sarchino te ha tocado è arrivato Sarchino e adesso lo sai che mi piace ballare, cantare e giocare son fatto così Sarchino il coglione c'è pensavo che quella tua faccia di merda non l'avrei più finca invece no, 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 no ho i cicos, ho i de canzioni ho i mi sento muy Eurovision come si chiama? ho i mi cantarmi mi sento muy Eurovision mi gusta un montono le cantare peccato che del copyright sennò ponia una canzone ora mi piaceva a cantare come eh, guarda si, si ma no oh lo vuoi fare tu? no, volevo solo che la facessi dire ma l'acqua l'acqua se ne è andata e non ritorna più la bottiglia delle 7.30 è senza lui un cuore di metodo senza l'acqua sai rompendo tutto rompendo l'acqua nananana a scuola il banca è vuoto l'acqua è dentro me Mario Tennis oh, quanto, quanto porcento ha pedito il rimborso? era fake la notizia ma era tipo il 30% parece che Mario Tennis e il 30% dell'usuale che lo compraron pediron il rimborso perché hanno detto che è un gioco che non le gusta che si speravano ma si speravano molto ma a vero che opinarai tu perciò ciò è arrivato il pro controller already boom qui vi volevo pisellini pisellini oh, 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 oh Barcelona questi sono i Queen buon appetito Yuri buon appetito Michella chiesa cosa mangia Yuri per favore dimmi cosa mangi Yuri voglio sapere mi mangierai adesso una cottoletta alla milanese mamma mia Cosa è? Cosa è? Cosa è? Burt Io credo che il che dice di Battle Royale è il Real Royale O è altro... O è lo che stiamo esperando noi O Crazy Justice Crazy Justice Che c'è un disconnesso Flavio Un disconnesso Flavio Il Dio sta giocando con l'internet del cellulare Oh mio Dio Uh, questa partita parece già quasi ganata Però per loro Molto cerca Crazy Justice Lo stiamo esperando Lo stiamo esperando a un car Mira, ora hai una conferenza in breve E tenemos che ver Tiene che salire in quattro dia Tiene che salire Ma creo che no Perché Che è... Che salire in quattro dia Non so Una sigla Una sigla La sigla Alice in Legends Alice Alice oddio non lo sapevo cosa che sempre giocano così vabbè ma se c'è un buon hotspot non è che è male no no oh che sto facendo che era Alice alì e leggende o leggende se vedi che ti disconnetti non entrare in quella dopo cazzolina se no sei ultimo per logica comune adios passatela bene ciao no vale 120 euro 60 no 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 chocolate is it's like the the pro controller is like 60 I don't know in dollars but euros but euros more or less beeeero choclaris why are you talking dollars because he has a different coin they use chrome no ciao carlo bene cari e mui mui e poco cari doc non si chiama cotoletta adesso è cotoscritta madonna ma iuri fa le battute come te cotoletta cotol scritto oh mio dio grandioso iuri ho sentito la voce di frank you can never get rid of me we don't want to get rid of you why should we i don't know you non so neanche chi è chi è octo non so che no octopatata frank mi hai perseguito oh mio dio ma poi chi è questa persona veramente non lo so ma non vogliamo cosa vuol dire che non vi potete non os podéis deshacertemi madre mia stai molto agressivos eh oh mio dio a nosotros tampoco nos gusta il futbol il frascio va senza catene perché il webbrogio sa che conviene 1 euro 10 moni in sweden ah yeah crones i said it correct i remembered having eaten a muffin for 600 crones in sweden is that possible mamma mia mamma mia adesso sta mangiando il porcellino iuri quando mangia il porcellino già me lo vedo che si scrofa un gelato italiano di quelli buoni mamma mia ma come prima di mangiare si mangia un gelato voglio ricaricare la pila voglio ricaricare la pila voglio ricaricare la musica ok non ho cominciato a morire in questa partita che mi sto costando 60 euro sono 600 in sweden per il controller costa wow 82 euro vale il controller in sweden sto cazzo è molto molto è tantissimo ti ho detto quindi io ho mangiato un muffin perché mi è costato 60 crone che sono 6 euro quindi no? un muffin per 6 euro dimmi tu sia caro no? un muffin hai capito? si ok è al tamaño di una torta però vabbè mamma mia un muffin se vai in svezia sei rovinato si dice perché per comprare un muffin servono 6 euro per comprare un controller pro 82 euro servono ok è un muffin enorme di cardamomo no no vittorini tranquillo no 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 era 60 crone hai solo venito a salutare a preguntare il nome di un cuore cosa hai detto il muffin costa 60 euro no era un muffin expensive maffin ho detto prima che era la size di una caccia ma la casa del muffin la casa del muffin la casa del muffin i found something weird in piranha pit in a Recon only Recon non sto facendo schifo che hai detto schifo? io lo sto dicendo da me stessa oddio è una ironia pura no no Frank ma ti manco che mi spiati tanto sta facendo qualcosa per noi ha detto ci cago cacca e fa quello invece di sfatarmi oh mio dio oh mio dio la vendetta la vendemmia questa non è una la vendemmia quando fai il vino quando tendi il vino e fai il la vendemmia vi for venganza cupe di vendetta cupe di vendemmia oh mio dio sai che ha morto per un curling non lo posso credere io pensavo che non e io ho morto morto per una bomba acabo di comere acabo di comere un delicioso jamone iberico che meraviglia Victorina però ti hai comito entero il jamone iberico tambien con los huesos non sentira nada del jamone iberico molto gratis penso che andata al sito credo che ti vedano a la face e si dice 6 euro non non stava aware quanto costava prima per essere sincero sono le ultime ore erano in주는 e ho Weekly ho collegato e ho dovuto un prezzo per un momento venga è come questo ora 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 iniziamo. Madre mia, madre mia, questo è un percal. Se mi dai meno spazio è ancora possibile, guarda dove sono io, guarda quanto spazio occupi tu e guarda quanto spazio occupo io. Devo iniziare, vero? Del tirannosauro Rex, can't kill you. Welcome, tirannosauro. Hi, welcome. Un tirannosauro Rex può ammazzarti, è ovvio. Ci manca un bel gelato che mi può ammazzare. Come posso ammazzarti? Tirano? T-rex. T-rex. Hi, T-rex. You're welcome here in the community. Welcome, welcome, welcome. No lì. Victorina, in casa ora abbiamo più di 30 gradi. Se pongo il diretto, a pochi secondi mi si fonde il ordine. Tensi che comprendere che il Dock ha un ordine solo. Una volta che si fanno questo, siamo fermati tutti. Io sei di qualcuno che mi va a odiare, e in questo momento non mi ha odiare. Fermati, stai fermati. Che tal Loli? Loli? Su hozza di robot era molto bella. Loli, Lola, ogni giorno io ti voglio più. Loli, 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 Lola. Si, è molto cuqui. Mi dà, glielo dici, non mi posso rispettare. Si. Sì. Sì, se ti tocca altra vez, puoi sentire un po' di compasione, per la prima no. Pem, 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 pem. Pem, 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 pem. Pem, 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 pem. Pem, 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 pem. Chicos, a darle like, eh, chicos. Por favor, che se me vogliono enfadare qui, ora doi un pugnetazzo nella cara a Jess, eh? Grazie. Te uso come... Tenemos solo 23 like, chicos. Por favor, il like. Non può essere solo 23. Mira, uno mas, 24. Anda che... Alguien sicuro non ha posto il like. Fermati, stai ferma. Pem, 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 pem. Uppam. Vabbè, già nessuno. Vabbè poi la vedremo sottolineato da presto. Proverò di nuovo gioco. Pe, pe, pem, pem, pem. Pem, pem, pem. Pem, pem, pem. Pem, pem, pem. Pem, pem! Uppam. Baila, 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 baila. Come la conosci tu questa? Eh? Perché la conosci? Perché? Perché i Gypsy Kings si conoscono in tutto il mondo. E Tarun, oddio! Ah, ma che è? Bazucapra. Capra, capra. Il pezzo capreato. Sai che non so dove si deve mettere quella capra? Si, hai visto, si. Allora, dov'è? Ok, molto laterale. Non mi dimentico! Qui c'è, credo che abbiamo una differenza di quattro ore. Se mi ricordo bene, no? Due? Due, bim, bim! No, non solo due. Uh, 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 uh! Passi! So, it's, uh, uh, it's half past eleven, so half past ten, sorry. And I'm a mezzanote! Wow, un nuovo scenario Wow Sera Desplatun 1 o sera nuovo? Wow, sorprendeme Oh, espera, o sera una delle zone mixte Wow Kevin? 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 Hola Me ricordo di Kevin No, no molto, però Si, la prima volta non soporto bene, ma poi sempre viene più Che tal, Kevin? Boom Boom, bam, boom, bam, 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 bam Si, me gusta más Stupupum Perché liveo 28? No puede ser Cosa? Mi dote live in the wrong Arpici Sam Feer Hi Hi, Sam Feer Hi, and welcome to your new community Please, remember to subscribe or maybe give a big hug and a like Oh my god Ok, that was not so bad Papà, ti troverò Ti troverò perché non c'è un cazzo da fare It's new, in serio? It's new, in serio? It's new, in serio? It's new, it's new, it's new? It's new, it's new I've had an original idea this time A new map with new A new, new map A new, new map Hey, 8,000? 10,000? 10,000? 10,000? 10,000 votes Welcome Welcome to the community To the channel You are Sonics Sonics! Guapo! Guys, remember to subscribe, please I don't, I don't can, I cannot say to you always subscribe, subscribe Please Morto You liked it, Sonics? Look, the tibu is always unique I like this guy a lot So you can't even recriminate anything If it's another direct, it's possible to say Hey, what are you doing? No, no Pregunta al tibu No se puede decir Nada Another octoling Yes You are not alone You are not alone I also had one last week of four killed And I thought I recorded it And when I went to see the The recordings It was not there So it was all in my head Don't worry Don't worry Be splattered Don't worry Be splattered Do you remember the friend guru dog is in the description If you want to add a play? Don't worry Be splattered bravo bravo amore fischia fischia con papà è la scoregina gli ultimi saranno i primi se i primi sono ultimi un secondo alice e toni la conosco la moderadora la moderadora lo sabia tranquillo toni è la lei abbiamo un libro di lei di splatoon che è la ultima che entra e la ultima della match del partito ha anche sperato oh sì oh sì a pintare a pintare a biscotti è arrivato il fantino è arrivato il fantino donne è arrivato il fantino do you be the scrot don't worry è arrivato il fantino è arrivato il fantino è arrivato il fantino Non lo vi ho oído mai, Loli Loli, Lola Cari, io ti chiedo È tuo favorito, ok, Toni Loli, Lola Hola, Cari Hola, hola Ciao No, abuelo, no Era un anno che ti aspettavo Ciao Aspetta, ma Franca Non so perché mi viene in mente Dove è? Cosa stai facendo? Franca, ma che cazzo stai facendo? Mi spieghi Se vuoi, e se non vuoi Ma perché non sei più moderatore Però non parlare neanche Anche Cocco Anche Cocco sta dicendo Hola, guapo tipo Tiwù, qui sei Tiwù, qua si Acabano di parlare di ti Loli Tiwù Ah, è vero! Ah, Alice? Ah, del terrore, la fila! Io pensavo che era una cosa aburrida. Endogastronomica. Tipo, as direttore, Tipo, io credo che qui hai una persona che tiene molto cariño a tua... a tua moderatora. Eh? A chi? Al diretto! Preguntale direttamente, Sonics. Perché Costanza non sta qui contigo? Sale meglio la cosa. Oh, Marco, non buttarti! Ma no! Marco, si è buttato. Mirati, Bu! Sei chiaro e sei onesto contigo, eh? Oggi stavo guardando a tua diretto. Entendete? Tennis. Non parlo, perché tu sai che io... A me non mi piace parlare. Io lo direto di altri, eh? Io non sono un youtuber. Quindi, mi ha guardato a tua diretto. Che c'era un montone... Un montone di persone che conosciamo qui anche qui. E mi ha dormito! Con tua voce, tranquillo! No! No! Stavo molto relajato! No, 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 no! Nunca è mia vita, dice questo! E che stavo così di tranquillità nella cama. La sera, eh? Qual era? Adamio! Ho detto, come era Adamio? Ah, e ho una domanda, TV. Che eser te? Perché oggi due volte sei dal diretto. Che usasi il gatto o tu? Come cattura della grafica. Perché credo che tutti hanno il mio... Il mio... Il mio... Il mio problema. Sì, sì, Sonics, già lo sei. Vale l'olio, hai intendito? Ai, ai! Mi sono suicidato due volte. Oh mio Dio. Ah, dobbiamo scrivere l'iniziale, vero? Sì. Perché? Perché mira Bob che tiene nel cerebro. Ma dai, salca, andà. No, perché io credo che il problema principale è che se tu mira il diretto di TV, è un pequeño, è in una pantalla del mobile. Entende? No. No. No, questo può essere, però... È vivo? Sì. Atenzione, Frank è vivo. No, allora, usa la capturatora vermedia Live Gamer Extreme. No. Perché a me passa lo mismo e ho capito che lo più di volte è... è perché uso il gatto con OBS. OBS e Stream Lab. E questo mi dà problema... wow. Mi ricordo. Gio Gladys, I loved your sentence. I loved ones. Sì 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 sì. Voglio dire, Doc, che nel presente non salio già il suo gioco. Sono amnetico. se ha cambiato l'almo no se si ha apuntato la contraseña no la he apuntato no la he apuntato si la has escrito la has escrito Yuri? no, yo tambien silenzio yuri ok yuri la ha escrito i want to be free i want to to kelpok tolin que el de un colpo no lo guarda tengo un puerco en mi tasca come ha escrito tasca non esiste tasca non da neanche quel nome dai spegne wifi wifi col tonno no no solo 29,5 2,5 che sta passando come se non l'ho mai usato ah sto orre sto orre edgar edgar edga? edgar 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 la verità è? madre mia cosa è successo? mi stava solamente il cubo come mai come mai hai sdoppiato il computer? come mai hai sdoppiato il computer? è già stato messo su disco chi è? eh ali ciòco 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 c'è il tuo For you Trovate il nome doc formichina Nome doc Castorina Che cos'è castorina quello Tinto ricchio mamma mia Sì si sogniamo E sto in mucho comodo E mi divano Però vedi Quello di Torino sempre ci prova Sì 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 Noi siamo differenti dal mondo esterno Lui potrebbe parlare inglese Ma vuol provare a parlare spagnolo No lo bavo Bavo Eh è chiaro Molto Molto E mucho y muy no? Chiaro Molto E mucho Alla Adesso capisco perché è difficile Il mucho y el muy Muy mucho È il moco Buah Porche 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 Oddio mio Oddio abbiamo fatto piangere il nostro amico No why are you crying No cry for me Giappanino Oddio cosa abbiamo fatto Mi sa che hai sbagliato lingua Non è giapponese o cinese Come no? È giapponese C'è non giapponese Non è giapponese È cino What? You're Chinese? Oh my god E quindi è un altro No ma Ma come? Beh vabbè Non è cinese dai Giappanino Cioè Io sono lì Li so riconoscere Questo cinese Questo giapponese Che figura di merda mi fai fare tu? Sempre Io pensavo che fosse l'altro Ma scusa Ma se metti il suo nome nel traduttore Cosa ti dà? Sembra strano Mi sa che ci sta abitando per il culo sai Anche me Questi sono Questi sono Non sono Lette Cinesi Japones You joke with us Anche lei non lo riconosce Ci ha presa in giro Sto scemo e merda Adesso si strunza Mi ha guardato il cuore Insomma Mi ha guardato il cuore Facciamo un cuore rotto Jessica si sta togliendo i topi dal naso Nel frattempo che voi No sono tolto direttamente Non sono tolto ti Con le dita da un metro che si ritrova Si sta toliendo più caccole E il naso Non volevo farli sentire diversi Io anche me la sono tolto prima Uno era grosso come una padella L'ho tirata nel bagno Che qualcuno mi salvi Trovatemi la donna Per favore No La carta fa male Nel naso No fatti Fatti È vero Cioè è un invento Della modernità Che ti fa secare Troppo la mucosa Rovina solo tutto Ti fa tutto male Oh mio Dio Mamma mia Solo che non si deve fare in pubblico Per l'educazione Puoi tirare le mani Nessuno ha sentito questo Che avevi appena detto Ok? Grazie Sono gli italiani Gli italiani Cioè noi siamo Tacolosi Noi siamo schifosissimi L'italiano fa qualsiasi cosa Che gli viene Siamo schifosissimi E sto ben preoccupando Stessa filmazione del doc Mi preoccupano Wow Victor Wow Chi parla lingua cinese O giapponese Tanto coraggio E retra fanno Oh Oh E Nooo Vittorin si sente meno preciato perchè non te chejas quando le matas A me non mi interessa Chicos, io non sono come i youtuber medio A me se me matai e tengo buoni, buoni, buoni compagni De juego Che si vengono Claro Chicos, le aveis hecho... Stavo todavía aquí, no me lo puedo creer Le aveis hecho a responder, Dios mío Spero que sea una cosa positiva, no me quiero poner a traducir todo lo que me has tecleado Perché ora parlano di en Italia e cose così sicuramente di schifezze sovraumane New lobby Mi hao Mi hao Mannaggia Mannaggia la pupazza Quattro cinque 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 Quattro cinque Allora Che mis hambre... vuol dire che non crasha la stanza nessuno può entrare guarda io sono troppa fame raga non va non va a lontana ti dice che sta bene grazie qui vale l'amico japonese grazia non se io solo le do hola però uguale il traduttore non lo va bene come vive in grazia un amico giapponese in grazia che vedi g se su radio freccia guardati in faccia anche frank uscito o che alla vittorini totes quando te le levantas Sì, error A volte passa, o no No, ultimamente non tanto Come passava antes, la verità Il codice? 4555 Ciao Yuri Buonanotte O buona cena, non lo so Buonanotte credo Sì, potete stare Mamma mia Vale, vale Uno más O non se si esperarme o no Si nos esperamos o no Vai, parte Vai, parte Venga, un split zone Frank, ti è toccato Sì, è toccato Può andare a fare in culo Con gli stivali ai piedi E fa sempre lo stesso Da mesi e mesi Ricorda se bagni un cane Hai un cane che puzza di bagnato Non hai un cane bagnato Il ridere silenziato di Frank Il ridere silenziato di Frank E come è successo? Lo so, eh Per quello dico I meriti vanno dati A chi se li merita Perché siamo Il paese meritocratico Ragion per cui Bisogna distinguere La nutella dalla merda Se no ti fai un panino Che puzza Siamo sempre lì La puzza devi sentire solo Non devi arrivare a mangiare Wow Wow Troppo forti? Dai, dov'è questo? Posso andare Posso anche volere qua Vittorini E sto se li ha mai in treno Tu tieni che ficarte Che E nello diretto Può essere che Che non sei il migliore Che non gioca bene Che ti pareci Tutta questa cosa E dopo Quando vai a giocare Con persone normali Normali O anche In un altro canale Eri sempre Uno dei migliore Quindi Questo si chiama Entreno Si Qui Niente Venha Judicato Lo unico Que è lo più importante È non Ir Presupondendo E questo E questo Non mi fai Esforzare E per questo Mi quedo in la base E per questo E per questo Hago una tal No Co e Vittor Vittor Eri demasiado No No Ah, poi mira Mejor a un Ok, sareta Pa niente Mi saque Bolivian dare, no? Come dice? Ah, ok Perfecto, perfecto Bueno, es un entreno Porque así Es un entreno Porque así Intentas coger Otras estrategias Otros caminos No sta perdido Ellos 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 también Tienen malas jugadas Eh, aunque Tu Les categorizes Como fuertes No es Que Sea Siempre Igual Eh, chicos En serio Haremos Aún No lo sé Dos partidos Tenemos que comer Tengo Demasi Dehambra Chicos Hemos vuelto En casa Hemos empezato El directo Sin comer Hemos comido Un paquete De patatine Y nada más Y esta noche Vamos a hacer Un par de videos En cooperativo De Human Fall Flat Mio Y de Jess Entonces Mañana seguro Vais a reír Un montón De los videos Que vamos a salir Vais a tener un buen día Porque vais a empezar Riendo No, Victorín Mira El día pasado ayer Me he legado Dall'Italia Un paquete De comer De mi madre Si Y Tengo que hacer La polenta Entonces Necesito De tranquillidad Estar ahí También Tengo que cocinar No solo comer Estoy muy feliz Muy feliz 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 Sempre c'è bisogno De provare un paio Di armi Porque puede ser una Que pensas que no Ti va bene Y después La fine Resulta que no Que es la que Con qui Giochi Meglio Una bella Bomba preventiva Una bella Bomba preventiva Eso es ma se è un'ora 40 a calentare troppo e poi teniamo che facciamo anche un video che è rotto e vediamo come fare Sara si può fare su Discord su Discord mentre noi registriamo non c'è problema posso posso compartire lo schermo eh no? mentre registri? chiaro penso che si se non lagga tanto perché voglio fare il primo contenuto fatto bene capito? si voilà grande Victor viene ciò pareva papira e tu devi finire il disegno l'hai finito il disegno del Torpanga? devo scrivere le lettere e fare un paio più di dettagli e basta lo facciamo vedere ho fatto uno fenardo ragazzi lo facciamo vedere? si? e si guarda nella live lo vede cazzo di suoi ma non li voglio rovinare lo soffredo ma non lo guarda guarda la live è il live lui adesso ma poi non penso che vediamo no è proprio questa voglio che faccia la live no no infatti guardi Sara non c'è problema no è solo per condividere lo schermo così potete ridere anche in silenzio ok ci vediamo dopo ma adesso la fanata ha la testa ancora strana dov'era il bazookarp? sopra io ho fatto una fanata ha fatto per il compleanno di Dr.Pang gli ha fatto un disegno un ritratto è buo bello veramente bello a me piace a me ancora sta stronzetta non mi ha fatto nessun disegno arriva il primo Dr.Pang qualsiasi qua ma mi è simpatico anche a me poi è mi ha fatto ridere un po' di volte e voglio anche farlo almeno sorridere se non è ridere oddio santo oddio era il canile dei cani compulsivi tranquilla cari ma che è meglio che tu juega no che 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 ha no 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 finito Oddio mio Questo è il maco Va a fare un culo Per te te l'ha fatto il disegno Anche a me Io che sono suo marito Sono pieno di disegni di Jess Non lo sapevi? Ma avete ragione Forse ha capito male Pensa a Dr.Punk Penso che sia la stessa persona Ha detto Faccio un disegno al doc Ma non pensavo che valorizzassi un disegno Sicuramente mi diresti Ma che me ne faccio un disegno? Me lo mangio? Dai dai Adesso disegnerò di più Non lo so Dai facciamo l'ultima Sì Io veramente ho troppo fame Io posso Ho veramente troppo 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 fame GGG Anzi fammi vedere se è ancora in live Oh Parti partici Io la mia preferita voglio La splat Splat zone Splat zombie Però no Con le starme Come le mangi? Cosa? Che cosa? Video video Legends Io anche sapessi disegnare Mi farei tanti disegni Da solo Ah proprio Hai trovato il disegno O no? Quel disegno di tre anni fa Ha sparito Nelle profondità Della camera No Non c'è già più No Non ti fa Ha finito la live da 9 minuti Io ho la bella vinciata Non so chi da voi l'ha sentito Ma è troppo bello Sono sempre quei 5-6 stronzi Che li mettono in dislike Come è riuscito Aspettare il misero Accanto Ma basta Non devi sentirti male Anche se hai fatto una cosa Che quasi non si può fare Oh 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 povero di Frank Mi inchiaccio il computer Che quasi quasi esplode No Devo scegliere un altro cammino Perché se no sono Ah Non c'è Non c'è opzione Se no Non c'è buio In questa notte Ma che sto facendo Ma pensavo Che avevo un altro speciale Non c'è buio No La mia ultima partita È orribile Ma 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 Sai cosa ti dico Che non posso più Di vederti così Adesso quando mi splatti Marco metto la mappa Così non devo vedere Come ti tuffa l'acqua A ciliegie Bene ragazzi Chico Sabevi se quando gli resti tono di voce Sì sì Quando arriva questo tono di voce Vuol dire solo una cosa Che il doc deve mangiare Però prima deve cucinare Chico Quando Quando Sempre c'è sempre c'è 15 persone E sicuramente avranno come cinque scrivendo e speriamo un secondo che tutti scrivano che sono? Victor, Legends e Gnoko. Questa la dovremmo subire sempre come sempre in Twitter Marco e Frank! Che bellini che sono! Stronzi! Che bellini che siete stranzi! Marco è sempre più figa! Ali e Tony! Tony a Twitter vanno queste foto, quindi se vuoi fare un vistazo, poi le pubbliciamo. E con Tony si è posto chica anche! Si! Allora, spera Marco! Marco! Marco Martínez! Hola Marco! Salidame! Donde tengo que salir? Donde te pongo? Si vale un mueble! Salgo da qui, me voy! Entro qui e me voy! Si! Salidame! Che tal, che tal Marco? Marco! Mira, stavamo cerrando il stream e perché abbiamo ancora bisogno di cuore! Quindi, abbiamo bisogno di salutare tutte le persone che stanno qui! E magari avranno un altro diretto e, più tardi, avranno un contenuto nuovo in video! Quindi, Marco, se sei nuovo, aggiungiamo! Sin problema! E mangiare possiamo parlare o giocare juntos! Sin problema! Come ti diciamo! Quindi, dai! Andate! Dalle al like! Dalle al subscribe! Suscrivete, porfa! Asimagnana tiene il nuovo suo amico! Quindi, ragazzi, dai! Andiamo a salutare un pochettino tutte le persone presenti! Allora, i miei grossi saluti vanno! Un abbraccio por Ali, por Calamaco, Eleonora, Frank, Saletta, Legend, il nuovo amico Marco! Bella Marco! Gnocco! Sonics! Victorin! Donde sta? Mi corazzoncito! Bienvenido Marco! Corazzoncito! Yuhuuu! Estas por aqui, Aul? E poi, un abbraccio e un bacio a Tiburon! Nuestro amico Tiburon! Siempre presente, chicos! Se non stiamo noi in live, sta sempre Tiburon! Quindi, aggiungere anche a Tiburon, chiaramente! Non sembra bene aggiungere solo noi e a Tiburon! A Jess! E a Frank! E a Coco! E a Doc! Salut a Jess! Molti grazie, ragazzi! A tutti, tutti, tutti! Que buona notte! Salut a Frank! Ciao! Ciao! Sono tornato! È un anno che ti aspettavo! Ciao! Devi guardare quel video, Frank! No! Puoi mettere un video, ragazzi, dovete vederlo per capire l'inquietudine di una persona! Vi venite puliti, per favore! Non guardarlo! E come dice quel vecchio youtuber... Come che diceva? Bye bye! Come diceva quel vecchio youtuber... Bye bye! E questa finisce senza battute e senza niente! Arrr! 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 Grazie a tutti.